Gess ha identificato due auto del collezionista con tecnologia Kill Switch. Dobbiamo decidere quale auto vogliamo rubare. Parliamo di due mostri placcati in oro. La prima è una Mercedes G63. L'ha portata a un casino della loggia in città per il Fortium Valley Day. Prenderla non sarà facile. E l'altro obiettivo? Domani il collezionista spedirà la seconda auto in Giappone. Sarà in mostra al terminal VIP del Rift. Quel posto sarà inavvicinabile? Beh, quale ci prendiamo? Vogliamo far arrabbiare il collezionista, no? Io dico entrambe. Bene, proviamoci. I fuochi d'artificio di Fortium Valley inizieranno a minuti. Non possiamo perderci. Saranno una distrazione per perci. Dite un po', perché è Tyler a guidare il Mech Attack? Non volevi guidare la Mercedes? Non puoi stare in tutti e due. Sì, sì, lo so. È solo... Tyler, fai del male alla mia bimba e ti giuro. La tua bimba? Ma se ci hai sparonato altre auto solo per divertimento. Ma è diverso. Jess, iniziano i fuochi. Di già. Mech, dicevi che c'era un sacco di tempo. È l'ultima volta che organizzi tu un lavoro. Il traffico non dipende da me. Muoviti. Sì, avete finito. Sono in posizione. Jess, tocca a te. Reggiti a qualcosa. Mech, vai! Ora ti libero, piccola. L'automagia funziona, Rav. Porto fuori questa bimba. Ho l'auto ed è una vera furia. Rav, è meglio se ti prepari. Pronto, in attesa. Reggati che la fara tirerà un sacco di tempo. Centrale Adam 35, furto d'auto segnalato al casino Carnevale. Uh, questo giochellino mi piace. Per me vale almeno mille volte la reghera. Scarta vetrerò via tutto l'oro per placarci il Mech Attack. Non nel mio garage. Ho un'ufficina di Bungusso. Mech, sono con Jess. Siamo diretti al Terminal Vip Derrick. Ragazzi, mi sa che qualcosa non va. Qualcosa, come? Del tipo qualcosa sotto l'auto ha cominciato a fare bip bip. Il collezionista ha messo un segnalatore. Cerco di liberarmene. Eh niente, è ancora lì. Non rischiare, Neck. Tieni da me, ognuno io. C'è tempo. Favo ancora un po'. Ah, niente. Mech, i tempi li hai stabiliti tu? Sì, sì. Ultimo tentativo. Cavolo! Pensavo di averci la fatta! Tieni subito qui. Avremo un modo. Bravo, sto arrivando. La banda di Morgan ha abboccato. Bene. Finiscila. Io e Tai. Siamo alla secondaria. Ciao, bellezza. Con l'altra auto e mezza polizia alle costole. Conosci il piano. Agira la città e va. Uno Adan 13 all'eseguimento di una Lamborghini dorata. Ripeti, Adan 13, una Lamborghini dorata. Affermativo. Una bomba. Una bomba? Ma... Non ho fatto che saltare. Te lo dicevo di due schiare. Ma... Dannazione. Brav, sta facendo bip anche la mia. Come mi muovo? Vieni qui. Ci penso io. Vediamo lì in un aperto. Dirige a Odo. Ciao. Ricevuto. Codice 3, diretto over. Spero che regga per te uno. Uno Adan 13. Il motore è andato. Siamo fuori dall'inseguimento. Ricevuto. Spazzi, fuoristrada in Lamborghini. Non so qualcuno che sarebbe devastato dalle tue parole. Armor, vittivo in posizione davanti al sospetto. Il sospetto ha evitato il vincolo colzato. Uno Lincoln 30. Auto fuori uso. Mi ritiro. Ok. Sontante. Speriamo qua prossimo. Dirige a Ovest, verso il lungo lago. Per la miseria, hanno bloccato tutte le strade. Presto non sarà più un problema. Mac! Oh, mi trai. Mac! Il Mac attack 2. Mac colpisce ancora. Porca vacca. Grazie. Dai, a bordo. Portaci fuori città. Io e Tyler tenteremo alle bombe. Adan 6. Seguiamo una probabile auto rubata al bordo. Non c'è un po' di stress. Ra, attenzione. Uno Adam Sai all'inseguimento. Unità in ascolto. Rispondete. Mac! E stiamo a ripassare le trasforma. Forse è quello già. Sì, e Mac? Cerca di restare stabile, d'accordo? Sto facendo il possibile. Ho scelto il momento peggiore. Centrale, è impossibile continuare l'inseguimento. Qui ci stanno facendo a pezzi. Il fastidio ha evitato le trancelle. Ehi! Si dirige all'orbe verso il barrio. Ehi, state bene? Inveceziamo due bombe nel retro di un camion saltellati. Tu che ne dici? Ok, io seguo. Perchè? Io andrò, ma ci divertiremo. Affronterò più polizziati che possano. Sotto diretto a Ovestra su Carson Street. Ricevo il toso già. Sotto diretto a Ovestra su Carson Street. Centrale, contatto visivo interrotto. Abbandoniamo l'inseguimento. Ragazzi, posti di blocco in vista. Pare che io sia il capo. Uno ad arse, non vediamo più il sospetto. Cavolo. Mi devo un favore. E lo riscuoto subito. Elimina qualche spirro per me. Con piacere. Lasciamo la città e se non riuscite a scogliere le bombe... Iniziamo il kill switch. Ci pensiamo noi. Centrale, procedo con il kill switch. KS perfetto. Una lomba da nessuna parte. Comincia con le brutte. Non posso disinnescare le bombe. Ragazzi, mollate le auto. Ma posso rimuoverle. Sei sicuro di... Kill switch in preparazione. Non rispondere. Attiviamo il kill switch. Centrale, ci passa attraverso come se niente fosse. Oh, oh, che botta. Sto attivando il kill switch al centrale. Mac, fatto. Niente più bombe? Già. E allora cosa aspetti? Link. Ehi, Mac. Potresti sentire un po' di rinculo. Oh, oh. Mac, problema poliziotti risolto. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ringas 하지만 inspire ale.